Un viaggio per ripercorrere attraverso il racconto di due figure femminili che si ritrovano in una stanza del tempo un lungo cammino delle donne attraverso il Novecento, dalla vita agricola degli anni 40 all'attività di partigiane, dall'abolizione della legge Merlin al boom economico, toccando temi come istruzione, lavoro, matrimonio e violenza. E' quanto propone lo spettacolo Donne, realizzato dall'associazione Tadaka e proposto dalla consulta regionale delle lette in quattro teatri piemontesi a Torino, a CBL e Cuneo.